Intanto mi sottriga che vado a lavorare. Sì, sì. Video creativo qui, attenzione. La nina, la pinta, la santa Maria e Gesù Christi. Gesù Christis. Maria ci sta perché è maggio, mese... È maggio, sono le tre caravelle di Colombo. Di Cristoforo Colombo. È per quello che è l'ultimo, si chiama Christis. Le tre caravelle, il mare, il tempesto, il mare, il mare, il mare in tempesta.